Ma era la pula quella? Ah sì Allora anche io Stanno ridendo Le dende, i poliziotti? Sì, guardavano le moto e sorridevano Buonasera 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 Ciao bello Adesso cazzo se mi metto a salutare tutti Arrivano i carabinieri Arrivano i carabinieri Maio Stanno tirando? Sì, li hanno visti passare E quindi arriveranno Bella per loro Vabbè io faccio due giri No, no, non serve Vado, fai una foto Sì, vai Ciao bello Sì Ciao Ciao Perché ti metti a correre davanti all'attente E ti imbatto sulla testa Comunque è piacere Ma era la pula quella? Ah sì No, è la moto No, è la moto Io insieme a TG mi sono messo a me andato Io devo andare raga però Torno tra 5 minuti Quindi Posso una foto? Dopo arrivo Dopo arrivo E' stop Benvenuti No, non la bata No Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Posso andarmene per i cazzi miei? Posso andarmene per i cazzi miei? No dobbiamo seguire una... Bella va bene Vai Scusate Maio andiamo a farci un giro Vediamo che rispoglia c'è interlazio Sazga ciao bravo come stai? andiamo a schienarmi insieme facciamo qualche penna assieme? e no perché mi schieno che lascio giù il blocco si 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 ti puoi fare una foto con Zai? bene allora vai 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 hai visto? voglio partire un po' insieme vai vai la raga mi prendo un po' di più forte mi prendo un po' di più forte guardiamo eeeh 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 ciao ciao odio fate strada voi fate strada voi voi fate strada voi fate strada voi Voi? 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 Hai accortato capriera? Deppoo Questa è la cura di 15, 25 kilowatts, quando la è dopo ci sono ancora meglio. Ah, che ci sono mai. Questa è la cura di 15 minuti.